Musica Arrestato a Torianova il latitante Zappia Crolla parte del costone a picco sul mare a Tropea Il consiglio dei ministri scioglie il comune di Scilla A Catanzaro ho presentato il libro di Francesco Ceniti nel nome di Denise Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV E' stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Torianova Giuseppe Zappia L'attitante dal gennaio del 2021 Sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada Dalle campagne di San Martino di Torianova Un'altra latitante arrestato dai carabinieri in Calabria A finire in manette Giuseppe Zappia L'attitante dal gennaio del 2021 E' stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Torianova Mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada Dalle campagne della frazione di San Martino L'uomo doveva scontare in Francia Una pena residua di oltre sei anni per traffico di droga Perché ritenuto responsabile dell'importazione Di circa mille chili di cocaina dal Sud America In primis era stato condannato ad una pena di dieci anni dalla magistratura transalpina Che ha emesso un mandato di arresto europeo Per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti E per il quale dovrà rispiare la pena residua di sei anni e cinque mesi di reclusione L'uomo aveva cercato di eludere la polizia ritornando in Italia Ma i carabinieri lo hanno individuato All'ultimo piano di una vecchia costruzione Ubicata in una zona strategica della frazione di San Martino Difficilmente raggiungibili in auto e distanti dalle principali arterie autostradali Essendo limitrofa alle vaste aree rurali che fanno da cornice al piccolo centro cittadino Giuseppe Zappia dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Palmi A disposizione del procuratore generale presso la corte d'appello di Reggio Calabria In vista della conseguente procedura di estradizione Nelle prime ore del mattino è crollato parte del costone a picco sul mare Del promontorio di Santa Maria dell'Isola a Tropea Alcuni massi sono franati sulla spiaggia sottostante La fragilità del terreno calabrese non risparmia neanche i luoghi più significativi e curati della nostra regione Mettendo a rischio non solo cose e persone Ma creando anche un danno all'economia delle zone per via dei divieti che ne derivano Neanche la bellissima Tropea è esente da questo fenomeno Dove questa mattina verso le 8 e un quarto alcuni massi si sono staccati dal costone a picco sul mare Del promontorio nota tutti come l'Isola di Tropea Col suo bellissimo santuario di Santa Maria I grossi massi sono franati sulla spiaggia al lato mare Fortunatamente in quel momento deserta Creando però allarme tra la popolazione Infatti la caduta è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza poste nella zona L'immediato intervento dei vigili del fuoco Ha permesso di effettuare un monitoraggio più preciso dell'accaduto In quanto il promontorio dell'Isola è da tempo sotto i riflettori Per altri episodi analoghi avvenuti in passato e costantemente monitorato Nel 2011 si era concluso un restauro delle facciate con materiali e cromie tradizionali Dei locali interni al piano superiore Ed era stata anche messa in sicurezza la scalinata d'accesso Mentre nell'aprile del 2014 Erano stati consegnati i lavori del secondo lotto del progetto Per il consolidamento e recupero del santuario di Santa Maria dell'Isola I cui costoni erano soggetti a fenomeni erosivi E di disgregazione della roccia In quanto roccia tenera Questi lavori di consolidamento Erano stati fatti in maniera da non deturpare la bellezza della rupe Con delle chiodature di piccolo diametro Barre d'acciaio zincate di 22 mm Con uno scavo di 70 mm E poi fissate con delle piastre Il tutto ricoperto col materiale estratto dai buchi In modo da non far notare gli interventi Naturalmente questi Come affermò all'epoca chi effettuò i lavori Non andavano ad eliminare totalmente il rischio dei crolli O di altri piccoli distaccamenti Soprattutto dal lato della spiaggia Proprio la zona interessata al crollo odierno Per cui è fondamentale monitorare costantemente l'area E adottare misure di sicurezza adeguate Per proteggere sia la popolazione Che i tanti turisti che in ogni periodo dell'anno Visitano la perla del tirreno È stato arrestato all'Ocri Un presunto corriere della droga I militari del comando provinciale Della guardia di finanza di Reggio Calabria Hanno tratti in arresto per traffico Di sostanze stupefacenti Un uomo di origine calabresi In particolare nel corso del controllo di polizia Le fiamme gialle regine Hanno fermato ed ispezionato L'auto condotta dal soggetto Scoprendo prima un doppio fondo Ad azionamento con pistoni idraulici Risultato vuoto E poi due vani Realizzati nello schienale dei sedili anteriori Contenenti cinque panetti di cocaina Per un peso complessivo di cinque chili e mezzo L'uomo è stato tratti in arresto E posto a disposizione dell'autorità giudiziaria Il Consiglio dei Ministri Su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi Ha deliberato lo scioglimento del Comune di Scilla In provincia di Reggio Calabria E l'affidamento della gestione del Comune Ad una commissione straordinaria Per un periodo di 18 mesi Il Consiglio dei Ministri Su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi In considerazione degli accertati condizionamenti Da parte della criminalità organizzata Ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scilla E l'affidamento della gestione del Comune A una commissione straordinaria Per un periodo di 18 mesi Palazzo Chigi ha dettato la linea Niente elezioni a Scilla Il prossimo mese di maggio Ma la perla del terreno Continuerà ad essere amministrata Da una triade commissariale Che avrà il compito di proteggere il Comune Dalle infiltrazioni delle cosche dell'Andrangheta Il Comune di Scilla Dallo scorso 28 ottobre Era comunque guidato Dalla commissaria Antonella Surace Viceprefetto Che lo stava conducendo Verso le nuove elezioni La viceprefetto Aveva preso il posto Del sindaco Pasquale Ciccone Che si era dimesso Insieme con i consiglieri Della maggioranza Che lo sosteneva Perché coinvolto Nell'inchiesta della DDA Nuova linea Indagato Per voto di scambio politico mafioso Prima delle dimissioni Del sindaco Ciccone Lo scorso 9 agosto Si era insediata A Palazzo San Rocco La commissione di accesso antimafia Disposta dall'allora ministro Dell'interno Luciano Lamorgese Su proposto Del prefetto Di Reggio Calabria Massimo Mariani La conclusione Del lavoro Della commissione d'accesso Che era preseduta Dalla viceprefetto Eugenia Salvo Ha convinto Il ministro Piantedosi Ad assumere la decisione Di sciogliere il Comune Proprio Alla vigilia Della presentazione Delle liste Per le nuove elezioni Non è la prima volta Che il Comune di Scilla Viene sciolto Per infiltrazioni mafiose L'ente Di Palazzo San Rocco Infatti Era stato sciolto Per infiltrazioni mafiose Nel marzo del 2018 Periodo in cui Era sindaco Sempre Pasquale Ciccone Quest'ultimo Si era poi ricandidato Con la lista Scilla Riparte Nelle elezioni amministrative Che si sono svolte A settembre del 2020 Riportando circa Il 97% Dei voti Continua a crescere Il rischio Povertà Problema che riguarda Non solo Le famiglie straniere Ma anche Nucle familiari italiani E quanto afferma Anche il direttore Della Caritas Di Gioia Tauro Ascoltiamo Presidente Siamo sotto Festività Pasquale Ecco Si dice che sta aumentando La povertà Qui nella Piana di Gioia Tauro Ma non sono gli stranieri Ma sono italiani Sì Abbiamo notato Che in questo periodo Abbiamo avuto Un incremento Di italiani Sul nostro Che chiedono Aiuto Alle Caritas Parrocchiali Io Diciamo Sono nuovo direttore Da ottobre Sto facendo un giro Su tutte le Caritas Parrocchiali E quello che emerge Che gli italiani In questo momento Stanno vivendo Un forte dramma A causa degli aumenti Del prezzo E quindi chiedono Sempre di più Aiuto Le Caritas Per come possono Attraverso il sistema FEAD Che distribuisce Alimenti Di cui noi siamo Associati Aiutano E distribuiscono Agli italiani Non da meno Sono anche gli stranieri Che sono presenti Sul nostro territorio Ma diciamo Che abbiamo notato Proprio un incremento Degli italiani Che chiedono aiuto Alle nostre Caritas E con questa grazie Anche al Vescovo Che c'è questo servizio Che dà Da 360 gradi Sì sì Noi diciamo Che sulle 12 diocesi Calabresi Solo in tre Hanno un sistema Di distribuzione alimentare Interna Noi L'Ocri E la Mezzia Il nostro Vescovo Ci tiene Affinché riusciamo A mantenere questo servizio Perché diamo Sollievo E aiuto A tutti quelli Che si rivolgono Alle nostre Caritas Parrocchiali Quindi attraverso La Caritas diocesana E le Caritas parrocchiali Arriva l'amore Del nostro Vescovo Su tutto il territorio Quindi la povertà Non solo cibo Ma c'è anche altri servizi Che voi offrite Assolutamente sì La Caritas diocesana Non si occupa solo Dell'assistenza Alle persone In stato di indigenza Bensì anche All'orientamento Ed accompagnamento A tanti altri servizi Servizi che partono Dall'ascolto La Caritas diocesana Dispone infatti Di un centro di ascolto Nel quale Le persone Vengono Vengono quindi Ascoltate E accompagnate Alla ricerca Della soluzione I loro problemi E non solo Quindi assistiti Materialmente La prima forma Di carità È proprio L'ascolto La carenza di medici È un problema Che riguarda Tutta l'Italia Il numero Dei medici Di base Che va in pensione E compromette L'assistenza Dei pazienti E quanto Sta succedendo A Rizziconi Nel Regino Siamo a Rizziconi C'è delle problematiche Di salute Per quanto riguarda I medici Di famiglia Ecco Cinque medici Di famiglia Vanno in pensione Ci sono oltre Tremila persone Che non hanno Più un medico E con medico Quindi adesso L'appello A chi vogliamo fare Io direi Di indirizzarlo subito Al presidente Della regione Che mi sembra Che sia attivo Nella situazione Di rimpiazzare Sono arrivati I medici I bani Che li hanno Dislocati Nei vari presidi Ospedalieri E questo va bene Però qui c'è Una situazione Precaria Ci sono oltre 2000 come hai detto Di assistiti Tra questi ci sono Pure io Che non hanno La possibilità Di poter fare Impegnativa Prescrizione Di farmaci Per cui Non hanno Sostituito I medici Che sono andati In pensione E tra l'altro Li hanno convocati E alcuni sono Di Rizzicone Naturalmente Li hanno convocati Per la scelta Però è da un bel Po' di giorni Sono passati Quasi un mese Più di un mese Questi medici Che sono stati convocati Non hanno assegnato Un numero di matricola Quello che può essere Quindi siete tanti cittadini Che non avete più L'assistenza medica Sicuramente Quindi lei per una ricetta A chi si rivolge A nessuno A nessuno Possiamo Abbiamo la possibilità Anche perché Qualche medico Sì Di amico Però Nell'immediatezza Io per esempio Devo fare delle analisi Particolari E non so Che rivolgermi Ora io dico La colpa Non so di chi Non la voglio dare nessuno Sindaco La colpa è di noi cittadini Ritengo Perché non siamo Siamo riusciti A fare un movimento Va bene Che sia Di sprone A chi Di competenza Perché qua non è che siamo Nel terzo mondo Qua siamo In un paese Non lo so Al centro della piana Ci sono vecchietti Ci sono gente Inabile Possibile che non ci sia Si ha bisogno delle cure Servono le prescrizioni A ricetta Anche in farmacia Per un Ci dobbiamo rivolgere A un medico Nostro amico Che si sobbacca Che ci faccia il favore Ti faccia la ricetta Voglio dire Poi non sono Ci sono delle attese Se andiamo in un medico Qualsiasi Qua Rezziconi Ci sono delle attese Impensabili Perché hanno già I loro assistiti Più quelle che andiamo E' una situazione Drammatica Quindi io inviterei Chi di competenza A muoversi A venire quello Anche a livello politico Anche l'amministrazione comunale Pensa che debba fare qualcosa Io vorrei segnalare ancora Ma ci rivolgiamo al sindaco Ci rivolgiamo all'istituzione Soprattutto all'assessorato Alla sanità Ma un'altra cosa Che vorrei sottolineare Da oltre dieci anni Qui è stata abolita La guardia medica Tutti i comuni L'hanno rimpiazzata Rizziconi invece Non ce l'ha Mistero arcano Si potrebbe dire Da chi Dobbiamo rivolgerci Per ottenere i nostri diritti Pagliamo le tasse E dobbiamo essere serviti Come giustamente Lo prevede lo Stato Cambiamo argomento A Reggio Calabria Inaugurazione Del nuovo circolo Di Fratelli d'Italia Nasce come punto Di riferimento Dove i rigini Troveranno disponibilità E ascolto Rispetto alle tante emergenze Che il territorio soffre Nel comunicato Di presentazione Di questo evento Parlavate di amministrazione Distante Dal territorio E che poi in un certo senso Vi proponete Come interlocutore Proprio nei confronti Del territorio E renderle pubbliche Magari poter anche amplificare Le voci Perché saremo in tanti E farci ascoltare Quindi questo è un modo Forse Che proviene dal passato Quello di avere All'interno dei quartieri Dei circoli In maniera tale Che il cittadino Si possa avere Una valvola di sfogo Che può arrivare Magari alla classe politica Dirigente Di questa città Della regione Della regione Della nazione Ma io in questo territorio Mi sono cresciuto Avevo 12 anni Quando sono arrivato E da qui sono partito Ho fatto tutta la mia strada E penso che sia uno Dei territori più interessanti Della città E' un territorio In espansione E' un territorio Dove c'è tanta gente Laboriosa Ma anche questa iniziativa Che si sta portando avanti Vuole avvicinare La gente Alle istituzioni E le istituzioni Come si dice Qui al manifesto Dà bisogno del territorio Alle risposte Della politica Sono contenti Perché anche Con questo nuovo circo Si rigenera Fratelli d'Italia Si rigenerano anche In un territorio Importante E sensibile Della nostra città Perché ha bisogno Di avere maggiore attenzione Da tutti i punti di vista Sia dal punto di vista Dell'attenzione Della sicurezza Ma anche Della programmazione Delle opere pubbliche E' un circolo Che darà una grossa Mano d'aiuto Anche al capogruppo Di Fratelli d'Italia Al comune Perché servono Delle indicazioni concrete Per quanto riguarda Questa parte del territorio Ma soprattutto E' importante Nella rigenerazione Di quelle che saranno Le circoscrizioni Come ben sapete Si creeranno Queste macro aree Del territorio comunale Ritorneranno Le circoscrizioni Come già lo erano Fino al 2011 Pertanto E' un punto Di partenza fondamentale Come dicevo prima Per la programmazione Della nostra città E' stato presentato A Catanzaro Il libro di Francesco Ceniti Nel nome di Denise La storia vera Di Bergamini Il calciatore Ucciso due volte L'autore Ripercorre L'incredibile Tiramolla Giudiziario Durato Oltre 30 anni E' una storia Incredibile Lunga Parliamo di una vicenda Del 1989 Sono passati Più di 33 anni Per tanto tempo E' stata una lunga Traversata nel deserto Che ha fatto La famiglia Bergamini In cerca di giustizia Una battaglia Condotta prima Dal papà Poi dalla sorella Adesso c'è la terza generazione Con un nuovo Dennis Il figlio di Donata La sorella di Dennis E' incredibile Perché Non sembra neppure vera Per le cose Che sono accadute Parliamo di un ragazzo Di 27 anni Che aveva tutto la vita Aveva coronato Il suo sogno Diventare un calciatore Professionista Era un ragazzo Che era nell'apice Della sua carriera Che improvvisamente Viene trovato morto E da lì Succede una serie di cose Viene il caso chiuso Come suicidio E siamo nel 1990 Da allora Si è cercato Fino alla fine Alla famiglia Di dare una nuova verità A questa storia E ricordiamo C'è un processo in corsa A Cosenza Da un anno Con l'ex ragazza Che è accusata Di omicidio volontario E dal 1989 Il mondo è un po' cambiato No? Cambiate tante cose Cambiata anche la scienza forense Sì E' stata decisiva La glicoforina Ma anche Dennis Dennis è tornato in campo Incredibilmente Nel 2017 Quando è stato riusomato Il suo cadavere Era un tentativo estremo Per cercare una risposta Gli stessi esperti Erano un po' scettici Pensavano di trovare Magari delle ossa O addirittura nulla Di tutto quello Che si poteva fare Invece il corpo Era completamente intatto Mumificato Come quasi Se Dennis Aspettasse Aspettasse qualcuno Per dare una risposta La risposta è arrivata Il suo cadavere Si è acceso All'altezza della laringe Il che vuol dire Che è stato soffocato Non certo investito O come si era detto All'epoca Tuffato sotto il camion Così si espresse La sua ex ragazza Ci sono state Tante udienze Alcune Anche drammatiche Come quella Della sorella Donata Che si è conclusa In questi giorni Probabilmente Si arriva Sentenza di primo grado Si arriverà Dopo l'estate Beh si È stato Una bandiera Del cosenza calcio Purtroppo finito Tragicamente E fa piacere Che la sua Immagine Si possa proiettare Anche quello Che rappresenta Un campione Dello sport Del calcio Oltre i convini Del territorio Dove ha militato E dove ha lasciato Tanti ricordi Sicuramente Una figura Che serve Per unire Oltre i convini Lo sport oltre i convini Lo sport è partecipazione Lo sport è passione Ma lo sport Lancia sempre Un messaggio positivo Perché lo sport Non deve dividere Lo sport divide in campo Dividere i tifosi Però poi lo sport Unisce Lo sport fa solidarietà Lo sport costruisce Anche Un sentimento Di unità Che è importante Per il nostro Per tutte le comunità Per la nostra Ancora di più Guardi sul punto Io non posso Non posso intervenire Per due ordini Di ragione Uno perché è in corso Un processo Che si sta celebrando Nella corsa Rassiste di Cosenza E che Sancirà Quella che è La verità processuale Due perché Sono stato difensore Della famiglia Per la famiglia Bergamini Evito qualsiasi considerazione Sul punto Dopo Briatico Fa tappa a Pizzo Il tour del codice romano Carratelli Che fa conoscere Com'era la Calabria Nel 1500 Con le sue torri E i suoi sistemi Difensivi A pro da Pizzo Il codice romano Carratelli E la memoria Della Calabria Ed in particolare Della stessa Pizzo Si arricchisce Di una testimonianza Unica Perché mostra Il territorio Com'era nel 500 E un prezioso documento Il codice romano Carratelli Un manoscritto Acquarellato Originale Del XVI secolo Che rappresenta Un unicum Straordinario Attraverso il quale Vengono mostrati Gli insediamenti Militari costititi Nella Calabria Di quel periodo Tra questi Anche Pizzo Che terrà in mostra Le riproduzioni Più significative Fino al 9 maggio Nelle sale Del castello Bura Iniziative come queste Sono importanti Per promuovere Il territorio Eh sì Siamo felici Di aver ospitato Questa mostra Anche perché Penso che sia L'unico Manoscritto Che parla Dell'Italia Del Meridione Del 1500 In poi Perché dopo Tutti gli attacchi Dei Sarageni E cose varie Non ci sono documenti E questo penso Che sia davvero L'unico O uno dei pochi Che rappresenta Le forme difensive Dell'Italia Del sud Dell'epoca Venire qui al castello Per visionare Queste riproduzioni Aiuta a Conoscere Il territorio Certo Anche perché Nel codice Di Romano Caratelli C'è pure Tutto il percorso Che si potrebbe fare Della costa Dalla zona Di Ramantea A scendere Tutta la costa Degli idee Del valore Dell'importanza Di questo codice Se ne è parlato Nel corso Di una serata Organizzata Dall'amministrazione Comunale Alla presenza Di studiosi Che hanno potuto Constatare Anche attraverso Un interessante Confronto Quanto sia importante Questo eccezionale documento Così come spiegato Da Teresa Con l'appuntamento Di Pizzo Prosegue Questo tour Del codice Romano Caratelli Per la Calabria Certamente Noi abbiamo iniziato Con Briatico Quest'anno Siamo ora A Pizzo Su invito Dell'amministrazione Che la famiglia Ha subito Accolto Con piacere E poi Continueremo Seguendo un progetto Di Mimmo Caratelli Quello di far vedere Di far conoscere Questa Calabria Bella Attraverso il codice Ricordiamo che Questo è un documento Straordinario Dal punto di vista storico Certo E' un unicum E' un manoscritto Querellato Della fine del Cinquecento Che riporta La Calabria Mai vista Perché I vari terremoti Hanno distrutto Documenti E immagini E quindi Attraverso le tavole Del codice Che vengono esposte Vediamo queste fotografie Di altri tempi Termina qui La nostra informazione E grazie per averci seguito Ora spazio Alle notizie Dall'Italia e dal mondo Terzo giorno In rianimazione Per Silvio Berlusconi Che da mercoledì È ricoverato Al San Raffaele Di Milano Per un'infezione polmonare Il quadro clinico È stabile Ma rimane complesso Perché il Cavaliere Combatte da tempo Con una forma Di leucemia cronica Che debilita Il sistema immunitario Mi sono risollevato Mi sono risollevato Da altre situazioni difficili Avrebbe detto L'ex premier In una telefonata Con Augusto Minzolini Direttore del giornale Il cui contenuto È stato pubblicato Oggi Sempre oggi L'ex premier Si è sottoposto A nuovi accertamenti La natalità in Italia È al minimo storico E la mortalità Resta ancora elevata Meno di 7 neonati E più di 12 decessi Per mille abitanti È quanto emerge Dagli indicatori demografici Dell'Istat Relativi al 2022 Lo scorso anno I nati Sono scesi Per la prima volta Dall'unità d'Italia Sotto la soglia Delle 400.000 unità Attestandosi a 393.000 Dalla 2008 L'ultimo anno In cui si registrò Un aumento delle nascite Il calo È di circa 184.000 nati Di cui Circa 27.000 Concentrate Dalla 2019 In avanti Papa Francesco Non presenzierà La via Crucis Al Colosseo Di questa sera Per via del freddo intenso Di questi giorni Al contrario Di quanto annunciato In un primo momento Il pontefice Seguirà la processione Da casa Santa Marta Voci di pace In un mondo di guerra È il titolo scelto Dal Santo Padre Per la via Crucis Di quest'anno E dovrebbero essere Proprio i rifugiati Di vari paesi In guerra A portare la croce Da una stazione All'altra Le vittime Di quella Terza guerra mondiale A pezzi Di cui parla il Papa In ogni occasione Proprio nel momento In cui milioni Di italiani Si mettono In viaggio Per la Pasqua Arriva una nuova Stangata Per gli automobilisti Italiani Con la benzina Che torna a sfondare I 2 euro Al litro Le ultime rilevazioni Del governo Su circa 18.000 impianti Di carburanti Fotografono La mara sorpresa La benzina verde Al servito È tornata Sopra i 2 euro Uno dei motivi Uno dei motivi principali Riguarda il recente taglio Della produzione Di petrolio Deciso Dall'OPEC Il cartello Dei paesi Produttori Che ha fatto Impennare Le quotazioni Internazionali Il greggio Il greggio Infatti Viaggia ormai Oltre gli 80 euro Al barile Facendo schizzare I prezzi Alla pompa Dei prodotti Raffinati Harry e Meghan Hanno deciso Che non saranno Presenti All'incoronazione Di re Carlo Terzo Il mese Prossimo A Londra Tra le ragioni Adotte Dai duchi Di Sax Per disertare La solenne Cerimonia Ci sarebbero Il mancato invito Ai loro due figli Il no Alla richiesta Della coppia Di cantare Hepbird Dal balcone Di Buckingham Palace E il figlio Archie Che lo stesso giorno Il 6 maggio Festeggia Del suo compleanno Dunque I rapporti Già pesantemente Incrinati Non saranno Ricuciti Nemmeno in questa Occasione Oltre ai grandi Assenti Harry e Meghan All'incoronazione Mancheranno anche Il principe Andrea E le principesse Eugenia E Beatrice Si arricchisce Di contenuti Multimediali La mostra La Roma Della Repubblica Visitabile Fino al prossimo 23 settembre Musei Capitolini Di Roma Una videoproiezione Immersiva Che narra In maniera Evocativa E coinvolgente Le vicende Della storia Repubblicana Di Roma Con l'espandersi Del controllo Sull'Italia E dell'egemonia Sul Mediterraneo Attraverso i secoli Le tappe Dell'inesorabile Espansione Di Roma Sono ripercorse Grazie ad una serie Di cartografie Tematiche Proiettate a terra Mentre sulla parete Frontale Sono rappresentati Gli episodi Salienti I luoghi E i protagonisti Della storia Il racconto Avviene Con l'ausilio Di videoproiezioni Grafiche E riproduzioni Con effetto Olografico Di alcuni Dei reperti In mostra Oltre a Grafici E linee Del tempo Animate